buongiorno a tutti benvenuti nella mia cucina oggi prepariamo questa brioche salata con la macchina del pane io ho questa macchina la moulinex on bread e baguette mi ci trovo benissimo come vedete a due pale poi arriveranno altre ricette in seguito iniziamo con la ricetta quindi mettete nel cestello prima tutti i liquidi quindi mettete 100 ml di latte sbriciolate metà cubetto di lievito di birra 4 uova intere 100 ml d'olio d'oliva due cucchiaini di zucchero 4 cucchiaini di parmigiano grattugiato adesso mettete il cestello nella macchina e azioniamo la macchina per questa ricetta io uso il programma 7 quindi programma 7 sarebbe il programma per la pasta brioche peso un chilo crosta media e in tre ore e 19 la nostra brioche sarà pronta quindi azioniamo la macchina dopo un paio di minuti quindi giusto il tempo di miscelare per bene gli ingredienti di sciogliere lievito possiamo aggiungere la farina la farina sono 600 grammi in questo caso io ho usato tutta doppio la nostra macchina continua ad impastare aggiungiamo un cucchiaino e un'altra punta di cucchiaino di sale come vedete rimane un po di impasto attaccato alle pareti quindi ci aiutiamo con una spatola in silicone o se non ce l'avete un cucchiaio di legno va benissimo basta che non siano un cucchiaio di acciaio che poi possa possa graffiare il rivestimento intanto che la macchina impasta voi preparate a dadini tagliate a dadini 160 grammi di mortadella o altro salume a vostro piacere e 100 grammi di provolone piccante non appena la macchina emetterà il primo suono possiamo aggiungere questi ingredienti la macchina ha continuato sempre ad impastare e adesso ha emesso il bip sonoro e quindi possiamo aggiungere sia il provolone che la mortadella come vedete è imbastato perfettamente l'imbasso perfettamente ingordato noi non dobbiamo fare niente adesso chiudiamo il coperchio e lasciamo lavorare la macchina la mia macchina ha emesso il bip a due minuti e 48 e adesso lasciamo lavorare guardate come ben lievitata uno spettacolo adesso mancano 52 minuti per avere la brioche completa anche di cottura ed eccola qui guardate la macchina ha emesso il bip e ci ha avvisato che la nostra brioche è pronta e adesso tiriamo fuori il cestello come vedete questa macchina è praticissima perché fa tutto da sola non abbiamo bisogno di fare niente né di tirare l'impasto né di formarlo niente adesso lasciate raffreddare giusto un paio di minuti e sformate la vostra brioche guardate non so se in video rende bene l'idea di quanto sia grande con solo 600 grammi di farina e la morbidezza soprattutto che ha adesso lasciate raffreddare e poi tagliate la adesso vi faccio vedere l'interno com'è anche se doveva raffreddare ancora un po comunque morbidissimo guardate si vede benissimo la facilità che sia nel tagliarla guardate è stupenda accompagnatela con quello che più vi piace con salumi o formaggi mi raccomando anche chi non ha la macchina del pane può fare questa ricetta basterà impastare o a mano o in planetaria e poi metterla in uno stampo da cake mi raccomando se anche questa video ricetta ti è piaciuta iscriviti al canale lascia un like e condividimi sui saluti